Potrebbe trattarsi di un sopralluogo in vista di un furto, quello immortalato dalle telecamere di videosorveglianza private all'interno di un condominio in zona Giotto. Un cittadino così ha deciso di diffonderle e lanciare l'allarme tramite social network. È successo questa notte, pochi minuti dopo le due, quando l'uomo è stato svegliato da una notifica sul cellulare. I sensori del movimento avevano notato qualcosa. Alcune persone infatti si trovavano di fronte al portone di casa sua. Nelle immagini si vedono due uomini che a volte scoperto e con fare sospetto prima coprono con una mano lo spioncino e poi aiutandosi con una luce studiano ben bene la serratura della porta. Solamente pochi minuti e poi la fuga senza nemmeno tentare di entrare. L'uomo così non ci ha pensato due volte e ha postato il video immortalato su Facebook che in poco tempo ha fatto il giro della rete. È stata inoltre presentata denuncia. La polizia di Stato sta portando avanti le indagini. Sul posto anche la scientifica per i rilievi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. La zona negli ultimi mesi è finita in più occasioni nelle mire di ladri. Forti sì e in quella... Recentemente? Sì sì, un mese fa, venti giorni fa, un mese fa. Come vivete insomma questa zona? Insomma un po' preoccupati perché una volta era molto più tranquilla, ora invece no.